Musica Maturità, verga, pascoli, il discorso di Giorgio Parisi è la segre alla prima prova. Prima prova di maturità per oltre 530.000 studenti italiani, lo scritto di italiano torna dopo due anni di stop per la pandemia da Covid-19. Timpazzo da modello a discarica di Sicilia e 5 Stelle contro la Regione, i deputati regionali del Movimento 5 Stelle a Lars Nuccio Di Paola, che è Tidamante a margine della riunione di commissione antimafia convocata a Gela, tornano ad attaccare il governo regionale sulla questione rifiuti. Revenge, spari e tentato omicidio, 8 dal GUP. La decisione del GUP potrebbe arrivare a fine mese per gli 8 coinvolti nel blitz revenge. Gli investigatori ricostruirono uno scontro in atto tra nuclei familiari opposti, anche con armi. È contestato un caso di tentato omicidio. La maledizione dell'ambiente è l'ombra di un nuovo rimpasto. Dopo l'addio di Malluzzo e l'interim del sindaco all'ambiente, c'è la necessità di coprire al più presto una casella strategica all'interno della giunta. Malluzzo lascia un settore, quello all'ambiente, che in questo momento sta vivendo un periodo di transizione molto complicato. La città è sporca e la tanto annunciata e sbandierata pulizia straordinaria non è mai avvenuta, anzi è diventata la pietra dello scandalo che ha portato i renziani ad andare via. Ecco perché il sindaco potrebbe optare per una soluzione interna. L'antidoto torna con il teatro sotto le stelle. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, la compagnia antidoto è pronta per regalare emozioni risate attraverso i quattro spettacoli che dal 24 giugno si terranno all'arena. All'aperto del teatro antidoto, il duo Giammusso-Greco si dice entusiasta, carico e prontissimo a tornare sul palcoscenico e riabbracciare il loro pubblico. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale, la prima prova di maturità per oltre 530.000 studenti italiani. La prova scritta di italiano torna dopo due anni di pandemia da Covid. Sentiamo. Oltre 530.000 studenti italiani oggi iniziano la prima prova di italiano. La prima prova ritorna in presenza dopo ben due anni a causa dello stop dovuto alla pandemia di Covid-19. Com'è andata la prima prova? Allora, penso sia andata bene. Speriamo che sia andata bene per tutta Gela, anzi per tutta Italia. Che c'è da dire? Buona fortuna a tutti. Voi siete stati i primi a ritornare a fare la prima prova di presenza. Come l'avete vissuta? L'abbiamo vissuta all'inizio, è stato un po' scioccante diciamo. Poi però abbiamo preso fiducia in noi stessi e abbiamo fatto la prima prova. E per quanto riguarda le tracce com'erano? Pensavamo più difficile, invece sono state molto più facili del previsto. Gli autori che sono usciti sono argomenti che abbiamo trattato. Io sono una docente di lettere ed effettivamente la prima traccia, che era la traccia 1, parlava di Pascoli, la seconda di Verga. Ma comunque anche gli altri argomenti erano molto attuali, perché si parla sempre del giorno della memoria e quindi di Liliana Segre, oppure per esempio per quanto riguarda il Covid o quello attinente alla musicologia. Tornare dopo due anni a fare gli esami in presenza è una bella sfida. Sì, diciamo che si torna alla normalità ed effettivamente è un bello obiettivo questo che hanno raggiunto oggi i ragazzi, che purtroppo gli altri negli ultimi due anni non hanno potuto vivere. Qual è stata la risposta dei ragazzi? C'è qualcuno che ha già finito, che è in procinto di? Diciamo che sono a buon punto, perché sono stati molto recettivi con questi tipi di argomenti che c'erano e quindi sono abbastanza tranquilli. Vediamo perché comunque hanno diritto a sei ore e io ho detto loro di sfruttarle al massimo. Com'è per voi professori, invece, ritrovarvi dopo due anni a fare esame in presenza? Beh, è sempre emozionante. L'esame è sempre per noi professori una grande emozione. Non è vero che l'emozione è solo degli alunni. Per noi c'è l'emozione di avere completato un lavoro che è durato tre anni. Quindi anche per noi è un momento molto emozionante, importante, in cui c'è una parte della nostra vita che mettiamo in gioco e che se ne va. Come tradizione, negli ultimi anni, i maturandi si sono riuniti nel piazzale dell'Istituto Industriale per festeggiare l'inizio degli esami di maturità. Sotto le note di notte prima degli esami di venditti e i migliori anni della nostra vita di Renato Zero, hanno atteso la mezzanotte per festeggiare l'inizio di un esame temuto ed emozionante, che chiude un lungo percorso scolastico. Quella che è iniziata oggi è una maturità senza mascherina, visto che in extremis il governo ha cancellato l'obbligo di portarla durante le prove. Anche agli iscritti gli studenti potranno stare a bocca e naso scoperti. Per gli studenti che sono positivi al Covid e non potranno essere oggi e domani in aula, nessun rischio. Saranno giustificati se presentano l'esito del tampone positivo. E per loro è prevista una sessione supprentiva che si svolgerà il 6 e 7 luglio. Vediamo uno sguardo al consueto Covid Report. 49 nuovi casi Covid in città, 79 invece sono guariti. Sono i numeri delle ultime 24 ore, resti noti da ASP. In totale positivi sono 541. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Timpazzo da modello a discarica di Sicilia. 5 Stelle contro la Regione. I deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Lars, Nuccio Di Paolo e Chetti Damante, a margine della riunione e in commissione antimafia convocata a Gela, tornano ad attaccare il governo regionale sulla questione rifiuti. Sentiamo. Ieri al sopralluogo della commissione antimafia regionale e alla discarica di Timpazzo c'erano anche i deputati grillini Nuccio Di Paolo e Chetti Damante. Per i due parlamentari gelesi che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con la presidente di commissione Luisa Lantieri e con l'amministratore di impianti SRR Giovanna Picone è stata anche l'occasione per tornare sulla politica dei rifiuti del governo musumeci che ad oggi starebbe di fatto mettendo in ginocchio un impianto come quello di Timpazzo che non è semplicemente una discarica ma che con i suoi impianti attivi potrebbe essere considerato una struttura modello nel trattamento dei rifiuti in tutta la Sicilia. In questo momento la discarica Timpazzo è al centro di tutta una discussione regionale. Sappiamo bene tutte le ordinanze che emette continuamente da luglio 2021 il nostro caro presidente Musumeci, i regali che ci fa continuamente nel nostro territorio e abbiamo constatato insieme alla presidente che questa non è una semplice discarica è una realtà che funziona a gele e che potrebbe dare molto di più e superare anche il concetto della discarica to cure ma che da luglio 2021 è sotto pressione dalla mancanza di una programmazione reale per la gestione dei rifiuti da parte del presidente Musumeci e del governo musumeci. Tutti i rifiuti della Sicilia in questo momento sono portati e scaricati all'interno del nostro impianto un'impianto e un'impiantistica che è stata costruita nel tempo con sforzi enormi da parte di chi ha gestito l'impiantistica da parte della politica da parte di tutti gli amministratori ma è stata costruita ed è un gioiellino è stata ed è ancora tutt'oggi un gioiellino regionale dal punto di vista di impiantistica ma doveva servire per il nostro territorio doveva servire a gestire i rifiuti del nostro territorio così facendo invece non solo il presidente Musumeci non sta realizzando l'impiantistica né nel nostro territorio e nemmeno in giro per la Sicilia ma sta saturando la nostra discarica con il rischio di un aumento dei costi enormi nei prossimi mesi e nei prossimi anni da parte della tassa dei rifiuti che dovranno pagare i gelesi. Secondo il governo Musumeci invece la discarica gelese oggi sembra essere l'unica soluzione su cui dirottare l'immondizia di gran parte della Sicilia di fatto portando l'impianto all'esaurimento Musumeci in questo momento ha solo due discariche disponibili lui dice è quella nel territorio di Agrigento e quella di Gela così non è perché in alcuni casi potrebbe intanto nell'immediato sbloccare la situazione a Trapani che dovrebbe sbloccarsi a giorni e anche fare un'ordinanza su Oikos ma quello che dovrebbe fare Musumeci che dovrebbe fare già nel precedente, già dall'inizio del suo governo e non dopo cinque anni ovviamente è quello di potenziare e promuovere la raccolta differenziata in tutta la Sicilia. I gelesi fanno la raccolta differenziata, la facciamo in tutto il territorio non abbiamo benefici dal punto di vista di diminuzione della Tari mentre invece andiamo a trattare qui nel nostro territorio i rifiuti di città come Catania dove la raccolta differenziata è a percentuali veramente basse. Noi lo diciamo da tempo che il governo Musumeci non ha realizzato l'impiantistica in Sicilia e non ha fatto nulla per incentivare e per spingere le città metropolitane, i cittadini delle città metropolitane a fare una maggiore raccolta differenziata. Il futuro è nella raccolta differenziata, il futuro è nella realizzazione degli impianti, nella realizzazione degli impiantistica. Noi su Gela, il nostro territorio ha realizzato nel corso degli anni l'impiantistica in maniera corretta però il rischio è che nel prossimo anno la discarica verrà completamente saturata dalla quantità dei rifiuti che arrivano a tutta la Sicilia. La decisione del GUP potrebbe arrivare a fine mese per gli otto coinvolti nel Blitz Revenge e gli investigatori ricostruirono uno scontro in atto tra nuclei familiari opposti anche con armi e contestato un caso di tentato omicidio. Le difese degli otto coinvolti nell'inchiesta Revenge potrebbero decidere di non affidarsi a riti alternativi. Per la procura tutti gli imputati vanno rinviati a giudizio e la GUP Roberto Rigio valuterà a fine mese. Ieri mattina infatti è stato deciso di attendere anche per l'eventuale formulazione di richieste da parte dei legali. Le accuse vengono mosse a Rosario Trubia, Giuseppe Trubia, Vincenzo Trubia, Antonino Raitano, Ruben Raitano, Giacomo Tuminelli, Marco Ferrigno e Giovanni Simone Alario. Tutto sarebbe iniziato in base a quanto riscontrato dagli inquirenti da alcuni furti. Raitano e Trubia si accusarono a vicenda anche con minacce e ritorsioni. Fino alle armi una pistola nella disponibilità di Antonino Raitano e del fratello Ruben Raitano spunto durante un primo tentativo di chiarimento. Vincenzo Trubia e i figli Giuseppe Trubia e Rosario Trubia cercarono di disarmare i rivali. Sarebbe partito un colpo che raggiunse al piede il 47enne Vincenzo Trubia. Nella concitazione Trubia sarebbero riusciti ad impossessarsi della semiautomatica e per gli investigatori sarebbe stato il 23enne Rosario Trubia a sparare contro Antonino Raitano. La pistola sarebbe poi stata nascosta nell'ovile della famiglia. I carabinieri durante le indagini con perquisizioni e controlli riuscirono a ritrovare l'arma. I fratelli Raitano, pare spalleggiati da un altro coinvolto, il 38enne Giacomo Tuminelli, non avrebbero fatto attendere la loro risposta. Sarebbero stati loro a sparare contro l'ovile dei Trubia usando un fucile a canne mozze. Per i carabinieri i PM avrebbero avuto un'altra pistola, una semiautomatica Beretta. Sono diversi i capi di imputazione addebitati ai coinvolti. L'accusa più grave di tentato omicidio è posta a carico di Rosario Trubia che fece fuoco contro i fratelli Raitano secondo gli inquirenti con la volontà di uccidere, anche se nel corso dell'inchiesta il giovane è escluso di aver sparato per causare la morte dei rivali. Il 34enne Giovanni Simone Alario e il 49enne Marco Ferrigno invece vennero intercettati durante colloqui con Antonino Raitano. In ospedale avrebbero cercato di recuperare la pistola che era stata sottratta dai Trubia. L'inchiesta fu lunga e molto complessa mettendo insieme più vicende che portarono a ricostruire uno scontro in atto tra nuclei familiari rivali. Gli otto sono difesi dagli avvocati Davide Limoncello, Filippo Incarbone, Rosario Prudenti, Nicoletta Cauchi e Francesco Enia. E ancora la cronaca fece irruzione nella sua abitazione a San Giacomo. Tre anni fa un settantenne subì una rapina. Sarebbe stato il 41enne romeno Mirel Barbu a minacciarlo con un coltello alla gola. Il rapinatore avrebbe preteso denaro e fuggì via sottraendogli un tablet fatti che hanno portato Barbu davanti al GUP e deve rispondere di rapina. La vittima ha scelto di costituirsi parte civile come ha preannunciato il suo legale l'avvocato Angelo Caffa. Il cittadino romeno però ha fatto perdere le proprie tracce. Risulta irreperibile. Il GUP ha disposto nuove ricerche prima di valutare la sua posizione. La vittima della rapina l'avrebbe riconosciuto. Dopo l'addio di Malluzzo e l'interim del sindaco all'ambiente c'è la necessità di coprire al più presto una casella strategica all'interno della giunta. Malluzzo lascia un settore, quello all'ambiente, che in questo momento sta vivendo un periodo di transizione complicatissimo. La città è sporca e la tanto annunciata e sbandierata pulizia straordinaria non è mai avvenuta. Anzi è diventata la pietra dello scandalo che ha portato i renziani ad andare via. Ecco perché il sindaco potrebbe optare per una soluzione interna. La maledizione della poltrona dell'ambiente miete un'altra vittima. Dopo l'addio dell'assessore Robilatte che nel giugno del 2020 mollò il settore rifiuti proprio per un contrasto con il sindaco su alcune procedure e portò fuori dalla maggioranza anche il partito democratico che la sosteneva, la storia si ripete anche con Italia Viva. Fuori Malluzzo ancora una volta per un muro contro muro con il primo cittadino, questa volta sulla procedura da seguire per la pulizia straordinaria della città e con lui fuori dalla maggioranza anche i renziani che finora erano stati tra più fedeli alla linea greco. Rispetto al PD stavolta non c'è nessun contraccolpo sulla tenuta della maggioranza arcobaleno in consiglio comunale. I renziani al contrario dei dem non contano nessun consigliere in aula ma gli effetti di questo nuovo divorzio il terzo in meno di tre anni tra sindaco e alleati porta comunque delle conseguenze rispetto alla tenuta dell'attività amministrativa in un momento particolarmente difficile per la città. Malluzzo lascia un settore, quello l'ambiente, che in questo momento sta vivendo un periodo di transizione complicatissimo. La città è sporca e la tanto annunciata e sbandierata pulizia straordinaria non è mai avvenuta, anzi è diventata la pietra dello scandalo che ha portato i renziani ad andare via. La vicenda a Timpazzo è una bomba ecologica pronta a esplodere e non è da escludere una nuova emergenza rifiuti nei prossimi mesi e c'è ancora il dopotecra, il passaggio del servizio alle impianti SRR da gestire. Anche l'altro settore, retto da Malluzzo, quello dello sport, turismo e spettacolo, subisce uno stop inatteso, proprio alla vigilia dell'estate gelese, la prima senza le restrizioni della pandemia e con la prossima apertura della mostra sulla triremia alle porte, che con il settore scoperto rischia così di non avere la spinta promozionale necessaria per attirare i visitatori. Ecco perché il sindaco temporeggiatore non può più permettersi di temporeggiare ulteriormente. L'interim che è assunto all'ambiente non potrà durare mesi come già successo nel dopo Robilatte. Anche perché quei 12 mesi di transizione con Greco alla guida di un settore delicatissimo come quello dei rifiuti, poco o nulla hanno prodotto in termini di atti e soluzioni concrete. Il primo cittadino dovrà affrettarsi dunque a scegliere il successore di Malluzzo e probabilmente potrebbe già trovarlo in casa. Alcuni rumors di palazzo darebbero in pole position per la poltrona dell'ambiente l'attuale assessore alla polizia municipale Giuseppe Licata. La nomina di Licata potrebbe essere legata a una serie di incastri all'interno della SRR che proprio in questi giorni dovrebbe nominare il nuovo presidente dopo la fuoriuscita di Filippo Balbo sconfitto alle scorse amministrative a Butera. Non sono però da escludere anche eventuali nuovi ingressi da Liliana Bellardita che da oltre un anno aspetta la sua occasione per entrare in giunta al tanto ormai decantato secondo assessorato a Forza Italia con il quale il sindaco potrebbe rinsaldare ancora di più il rapporto con gli azzurri. Restano alla finestra per il momento i civici che proprio in queste settimane si sono mantenuti sotto traccia rispetto a questa ennesima crisi. Anche per loro potrebbe essere l'occasione per tentare la carta di un nuovo assessorato. Non è un mistero che la fuoriuscita di Italia Viva non abbia certo fatto stracciare le vesti agli arcobaleno che sulla presenza dei renziani in giunta avevano spesso espresso più di qualche mal di pancia. I renziani però adesso hanno tolto il disturbo, la giostra delle poltrone è di nuovo ripartita e siamo solo all'inizio della campagna elettorale. Proprio per questo non è da escludere neanche qualche altra dimissione eccellente in giunta. Sembra che altri due assessori infatti stiano meditando un addio già nelle prossime settimane. La scelta sarebbe al vaglio delle segreterie di partito, ma l'estate arcobaleno appena iniziata sembra destinata a essere veramente bollente. E ancora politica. Ieri sera il sindaco Lucio Greco e la sua maggioranza si sono confrontati con il dirigente e con i tecnici in vista della discussione in aula consigliare su peffettari. C'è l'intesa e gli atti arriveranno in aula per il voto. Sarà in aula a consigliare la prossima settimana e la maggioranza sembra aver trovato le necessarie rassicurazioni, anche tecniche, sul piano economico-finanziario. Proprio del peff si è discorso ieri sera nel corso di un avvertice voluto dal sindaco Lucio Greco. Per ora solo pochi accenni alle dimissioni dell'assessore all'ambiente Cristian Malluzzo. L'attenzione dell'avvocato greco e dei consiglieri si è focalizzata sulle indicazioni fornite dalla dirigente Fabio Filippino. Sono stati apportati gli accorgimenti richiesti sia sulla relazione che sul riferimento al contributo Conai. In aula il peff che definisce il costo del servizio rifiuti dovrebbe essere approvato senza troppi problemi. Non ci saranno mutamenti di tariffe. Tra i progreco c'è la convinzione che si possa chiudere entro la scadenza prevista, così come sul documento per la Tari. La prossima settimana inoltre la maggioranza, che ora dovrà fare a meno del supporto del Renziani, comunque privi di una rappresentanza all'assessore civica, si esprimerà anche sul nuovo contratto GELAS. Sono tutti atti finanziariamente importanti e gli alleati del primo cittadino dovranno dimostrare di avere i numeri senza passi falsi. Il dirigente Filippino ha inoltre posto alcune linee di intervento che intende mettere in campo sia per quanto riguarda la valutazione del servizio rifiuti e rapporti con Tecra, sia sul recupero di crediti alla convocazione del sindaco, ha risposto praticamente l'intera maggioranza, dai civici fino ai forzisti. C'erano i tecnici che seguono il servizio rifiuti, che dopo l'estate dovrebbe aprire la fase in house con le attività della Impianti SRR, destinata a prendere il testimone da Tecra, che comunque continua ad essere sotto stretta valutazione sia del dirigente che dei funzionari. Proprio sul servizio rifiuti e sui costi è maturata la crisi lampo che ha determinato la fine dell'intesa politica tra l'avvocato greco e Renziani. In attesa del rush finale della prossima settimana, con PEF, Tari e nuovo contratto Gelas, greco e la maggioranza potrebbero approfittarne per abbozzare il dopo Italia Viva nel corso di un incontro, forse nella fine settimana. Venerdì invece l'aula sarà concentrata sul monotematico chiesto per affrontare la vicenda dell'impianto rifiuti annunciato dal governo regionale. Sono sempre rifiuti a tenere banco e a spostare l'attenzione politica con una maggioranza in cerca di una stabilita duratura. A livello ministeriale, le riunioni sono proseguite negli scorsi giorni ed è stata direttamente l'autorità della Sicilia occidentale, presieduta da Pasqualino Monti, ad annunciare sulla propria pagina Facebook l'ingresso del sito locale, quello di Licata. Entrano a far parte ufficialmente, l'autorità si occuperà di gestire il sistema portuale locale, che però risente ancora oggi di ritardi e falle infrastrutturali con un portorifugio insabbiato. L'intento con il passaggio all'autorità è di creare un sistema decisamente più efficiente, aprendo agli investimenti sul fronte mare, anche nella prospettiva di Argo Cassiopea. È stato trasmesso ai revisori il nuovo contratto GELAS atteso da tempo, sarà l'ultimo passaggio prima del voto del Consiglio Comunale, previsto un arco temporale di circa tre anni. Fino a qualche settimana fa i presupposti sembravano messi a forte rischio. Su GELAS però c'è stata un'inversione di tendenza che dovrebbe portare all'approvazione del nuovo contratto entro fine mese, quando scadrà l'ultima proroga tecnica autorizzata. Filtra ottimismo e lo conferma anche il manager Francesco Tranito che non aveva nascosto la sua insoddisfazione per un andazzo burocratico che non lo convinceva per nulla. Il nuovo contratto GELAS è stato trasmesso dal Comune ai revisori. Ci sono le firme dei dirigenti e sono stati rilasciati pareri tecnici e contabili. Non appena i revisori avranno concluso la loro disamina potrà andare in Consiglio Comunale, come spiega lo stesso Tranito. Per la prima volta sarà un contratto di durata triennale. Si potrà quindi programmare il manager della municipalizzata e il sindaco Lucio Greco in questo periodo hanno intensificato gli incontri per cercare di non sforare il termine legato alla proroga tecnica in corso Tranito ad un certo punto ha anche messo in discussione la sua permanenza alla guida della multiservizi che deve fare i conti con carenze anzitutto di personale con i tempi non sempre immediati degli uffici comunali. La linea di tendenza però pare pian piano volgere verso la direzione auspicata dall'ingegnere che insieme al sindaco sta portando avanti una valutazione generale chiaramente monitorata dai dirigenti dei settori competenti. La prossima settimana inoltre si riunisce l'assemblea Ghelas per l'approvazione del bilancio che di fatto farà scadere l'incarico di Tranito che comunque dovrebbe rimanere alla guida della società anche sulla scorta del pieno appoggio dell'avvocato greco. Volgeranno al termine gli incarichi anche dei componenti del collegio dei sindaci se non mancano le difficoltà dovute anzitutto al numero limitato di addetti sui quali Ghelas può fare affidamento. Allo stesso tempo va avanti l'attività per stabilizzare i conti. Ghelas aveva sommato crediti verso il comune per circa 750 mila euro che chiaramente hanno messo in difficoltà e costretto a stoppare i servizi. Alcuni sono diventati debiti fuori bilancio, dice ancora Tranito. La società sta comunque pagando regolarmente gli stipendi ai dipendenti e coprirà anche la quattordicesima mensilità prevista dai contratti. Il nuovo contratto arriverà invece in consiglio alla prova d'aula con una maggioranza che sarà chiamata a valutare non solo i dati ma anche a pronunciarsi sul lavoro svolto dal management di Ghelas. Gli stipendi delle mensilità di maggio non sono stati ancora versati ai laboratori della raccolta rifiuti. Tecra, l'azienda campana che continua a svolgere l'attività in proroga, non ha disposto i pagamenti. Operai e sindacati non accettano lo slittamento del termine che sta diventando una consuetudine contraria a quanto previsto dal contratto nazionale. La segreteria provinciale di FIP CGL con il sindacalista Angelo Polizzi dichiara lo stato di agitazione e non esclude una giornata di sciopero. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid la compagnia Antidoto è pronta a regalare emozioni risate attraverso i quattro spettacoli che dal 24 giugno si terranno nell'arena all'aperto del Teatro Antidoto. Il duo Gianmusso Greco si dice entusiasta, carico e prontissimo a tornare sul palcoscenico. Riparte la stagione teatrale estiva dell'Arena di Machitella. Dopo l'interruzione forzata imposta dalla pandemia che ha decisamente segnato le sorti delle precedenti stagioni teatrali costringendo i numerosi artisti e operatori che ruotano attorno ad una compagnia a non poter più vivere le forti emozioni che un palcoscenico è in grado di donare finalmente torna alla magia del teatro che riesce a legare attori e spettatori in un'unica e indescrivibile atmosfera. Riparte la stagione teatrale estiva 2022 Dopo due anni, forse, 2022, due anni di fermo Sì, vabbè, però, ammo a cominciare? Cominciamo Sennò ancora due anni 2022, perché due anni abbiamo sospeso per tutto quello che è successo Guglielmo Greco e Giuliana Lafraglica, è giusto? Sì E quando iniziamo? Quando iniziamo? È il 2022 Noi, la prima data è il 24 giugno 24 giugno alle 21.30 qui all'Arena Antidoto con una bellissima commedia E... E... Lasciate una parola a Giuliana È certo La cosa la devo dire È certo, una cosa la devo dire Che il titolo della... Bravo, se no... È che il titolo della commedia, che insomma è il leitmotiv della nostra esistenza Non dire leitmotiv perché poi che se non lo capisce, non ci parla cosa sa niente Che senso mangia? No Non ci lasceremo mai Ecco E non ci lasceremo mai veramente Dice che... Ma dire che titolo? Non ci lasceremo mai Ma come inna te se mette questa cosa non ci lasceremo? Non ci lasceremo Non ci lasceremo mai Cioè io lo posso spiegare In sintesi non ci lasceremo mai È una commedia veramente meravigliosa E che non ci lasceremo mai neanche col pubblico No, questo è bellissimo Una commedia brillante in due atti Dove si ride E si riflette E insomma poi si sta in compagnia di questi due matti Insomma ragazzi Che volete di più? Grazie, grazie E Guglielmo, fammi una domanda Emanuele Allora, dopo il 24 E dopo le 23.30 che si finisce lo spettacolo E anzi prima Quanto si paga il biglietto? 5 euro Poi noi ci rivedremo 1, 7 e 14 Perfetto E quale ruota? Napoli è tutto in ruota Perfetto Allora E questa è una mini rassegna Come diceva Emanuele Dopo due anni di fermo biologico Anche il teatro riparte Finalmente riparte Riparte con una bella estate Con quattro spettacoli Tre della compagnia Antidoto Vedrà i protagonisti Io, Emanuele, Giuliana E altri attori della compagnia Il secondo spettacolo, giorno 1 Il primo luglio E uno spettacolo a 2 Dove vedrai scena solo io e Emanuele Con un bellissimo varietà Che si intitola? Non mi ricordo Non ci lasceremo Quattro risate fra noi Ecco, vedi E' una battuta E' fatta a posto E' fatta a posto Quattro risate fra noi Poi ci si chiuderemo noi Il 7 luglio Con un'altra bellissima farsa In due atti Che si intitola Occhio che arriva il ladro E il 14 luglio Avremo un ospite Un nostro carissimo amico catanese Che si chiama Questo lo faccio io e Emanuele Perché sennò poi Il peso è tutto da questa parte Emanuele Edoardo Saretta Ecco, con il titolo? Con il titolo Edoardo Saretta Il titolo Edoardo Saretta Sì perché è lui solo Brava, è lui solo Il piacere è tutto mio Con Edoardo Saretta Questi sono i primi quattro spettacoli Comunque Ricordiamo che devono venire Perfetto L'ingresso è semplicissimo Si entra dal cancello E costa 5 euro I quattro appuntamenti Promossi dalla compagnia Antidoto Con il duo Gio Mosso Greco Partiranno il 24 giugno Con l'opera Non ci lasceremo mai Il pubblico si vuole divertire E noi ci vogliamo divertire col pubblico Poi la risposta E aspettiamo la domanda Giusto? E se, no Ci aspettiamo tanto amore Perché è quello di cui abbiamo bisogno Risate E tanto amore Sicuramente Ci vediamo il 24 Tante belle cose Lo sport Continuano a portare a casa Tante medaglie Ragazzi della Young Runner Gela Questa volta in una manifestazione Regionale ad Enna Nei mille metri maschili Si impone su tutti Francesco Tandurella Nel salto il lungo maschile Valentino Oliva Mentre nel salto in alto Vince Salvatore Bianca Nei 600 metri Esordienti maschile Medaglia d'argento Per Flavio Greco In quelli femminili Arriva al quarto posto Sofia Verderame Nella categoria ragazzi Matteo Cavaleri Ottiene il secondo posto Nei 60 metri Mentre nei mille metri Ottiene il quinto posto Mattia Bonetto Nella categoria allievi Arriva a terzo posto Negli 800 metri Luca Greco Quinta Giorgia Traenito Negli 80 metri E nei 300 Arriva a quinto Giuseppe D'Antoni E tutto Il nostro telegiornale Termina qui Per gli altri approfondimenti Vi rimandiamo a Quotidiano di Gela.it Adesso vi lascio Alle previsioni meteo Grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti